Eccoci qua, è giovanissimo ed è il pipe de oro, de oro dei, eccolo qui, il pipe de platino del rapper italiano, caosico, divertente, disocratore, la sua maracanà è stata il tormentone di quest'estate, un giudice tutto da scoprire, Evischile Isitaus! E' una leggenda vivente della Pallacanestro, è l'unico cestista italiano, primo e unico ad aver vinto l'NBA americano, 1,96 m per 100 kg d'uomo, lo chiamano Rocky per la somiglianza con Silvestre Stallone, ma il suo vero nome è Marco Bellinelli! Cavarca, la carta stampata, colpi di scupe ed esclusive, ogni sua rivista vende centinaia di migliaia di copie, si può dire che è un uomo che nella testa ha di più, salutiamo il bate dei perortici patinati, Sandro Maier! L'unica cosa sulla quale non andiamo tanto d'accordo è che lui è della Juve e io del Torino, del resto è un uomo brillante, intelligente, è il capostipito degli attori belli e bravi italiani. Con noi in veste di giudice c'è Alessandro Preziosi! A chiudere la cinquina c'è la donna del momento, è un esempio di bellezza e discrezione, un esempio di dignità, di simpatia e di eleganza per tutte le donne italiane. Signori e signori, Presidente della nostra giuria tecnica, the one and only, Alena Seredova! Alena è qui con noi! Come siete eleganti, che meraviglia, come siete eleganti! Benvenuti a tutti voi, i nostri giurati ci aiuteranno a capire meglio la personalità, le nostre grazie, metteranno a loro agio o in difficoltà con delle domande ovviamente e soprattutto salveranno quelle che andranno in difficoltà nel televoto.